Il risultato negativo al contagio da coronavirus, il primo tampone effettuato sul cinquantene del comune salernitano di Agropoli, analizzato all'ospedale Cotugno di Napoli, era arrivato al pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania con febbre alta, di ritorno da una gita di cinque giorni a Venezia. Scattato il protocollo ministeriale, ora si attendono i risultati sul secondo tampone. Intanto il sindaco del comune cilentano Adamo Coppola era già corso ai ripari emanando ordinanze per la quarantena riguardante chiunque fosse entrato in contatto con il cinquantenne. Ho immediatamente firmato delle ordinanze di isolamento per le persone che sono state a lui a più stretto contatto, delle ordinanze che hanno uno scopo soltanto precauzionale. Abbiamo completato la disinfezione delle scuole di Agropoli, svolte a ditte specializzate che tra l'altro rilasceranno anche i certificati dovuti e quindi stiamo rispettando quelle che sono le indicazioni che ci sono pervenute dalle varie ordinanze in questi giorni. Continua l'attività della pubblica amministrazione in città cercando di evitare assembramento di persone. In queste ore si sta procedendo anche con il montaggio di tenso strutture per effettuare il triage da coronavirus all'esterno dell'ospedale di Salerno, di Cava, di Mercato Sanseverino e di Ravello. Va avanti anche la disinfezione degli istituti scolastici cittadini, mentre polemica per la necessità delle scuole superiori di pagare a proprie spese le operazioni dopo la comunicazione della provincia sulla mancanza di fondi.